buongiorno a tutti e bentrovati alla rubrica a domanda risponde in questa puntata parleremo riproponiamo il tema dei prossimi bandi di concorso a cattedra veniamo immediatamente alla prima domanda il 2 dicembre acquisito la laurea magistrale in ingegneria elettronica ed ho acquisito anche i 24 cfu per l'insegnamento potrò partecipare al prossimo concorso ordinario a cattedra per la classe di concorso al 0 41 allora per quanto riguarda questa domanda voglio dire che effettivamente ancora nulla è certo il bando di concorso ordinario per la scuola secondaria era stato già pubblicato il 20 aprile del 2020 con il decreto direttoriale numero 201 ma con le modifiche intervenuto col decreto legge 73 del maggio 2021 ci dovrà essere un altro bando che via generale non riapre i termini della domanda di partecipazione che era stata già disposta con scadenza 31 luglio 2020 tuttavia per alcune classi di concorso tra cui proprio la 0 41 cioè quella di informatica tanto per interdici ma anche per la 0 26 matematica la 0 27 matematica e fisica e la 0 20 fisica i termini di presentazione della domanda dovrebbero riaprire e quindi avendo tempo 30 giorni per la presentazione della domanda è ragionevole pensare che chi acquisisca i titoli i primi mesi di dicembre potrà partecipare a questo concorso ordinario per capire se i neolaureati delle discipline stem potranno partecipare al concorso ordinario bisognerà comunque attendere la nuova pubblicazione del bando prevista molto presto domanda numero 2 sarà bandito il concorso straordinario sui posti non assegnati il ruolo con le missioni 2021 2022 chi potrà fare domanda per partecipare a questo concorso allora si dovrebbe sì in effetti dovrebbe essere bandito entro il mese di dicembre 2021 quindi proprio il concorso straordinario per il ruolo quindi nelle prossime settimane i posti disponibili sono essenzialmente i posti di sostegno anche per l'infanzia e la primaria chiaramente e i posti sulle classi di concorso principalmente della scuola secondaria di primo e secondo grado potrà partecipare chi ha svolto almeno tre anni di servizio nelle scuole statali ed almeno uno sulla disciplina per cui si chiede di partecipare tutto negli ultimi cinque anni questi tre anni di servizio nelle scuole statali dovranno essere stati svolti anche non con continuità ma negli ultimi cinque anni non possono partecipare coloro che sono entrati in ruolo da gps nell'anno scolastico 2021 2022 terza e ultima domanda quando verrà espletato il concorso straordinario abilitante che era stato bandito con il decreto direttoriale numero 497 del 21 aprile chiaramente 2020 e le domande di partecipazione inoltrate entro il 15 luglio 2020 allora questo concorso straordinario è uscito fuori dai radar anche dell'informazione tuttavia il ministro bianchi vorrebbe provare e usiamo chiaramente il condizionale a farlo ripartire parallelamente al concorso straordinario 2021 sui posti non assegnati in ruolo nell'anno scolastico 2021 2022 ben presto si avranno conferme o smentite rispetto a questa ipotesi vi ringraziamo per averci seguito ci rivediamo mercoledì prossimo arrivederci